Vendo frutta! Vendo frutta! Vendo buona frutta! Come? Non arriva nessun cliente? Ragazzi, guardate! Ehi, vogliamo la frutta? Signore! Signore! Smetta di dormire! Oh, ciao ragazzi! Che cosa posso fare per voi? Io voglio un bel po' di anguria, chiaro? Perfetto, te la porto subito! Ed ecco a te l'anguria! E voi che volete? Scegliete pure, amici! Banana! Ecco a te delle sane banane! Arrivederci! Arrivederci! Ehi, ciao cliente! E tu che vuoi invece? Voglio tantissimi biscotti! Qui non vendiamo biscotti, solo frutta! Buonissima frutta sana per voi! Guarda qui che buone le fragole! Tutte per te! Che buone che sono le fragole! Ciao, ciao ragazzi! Arrivederci! Che bella giornata! Ehi ragazzi! Dove avete preso la frutta? Ok, grazie ragazzi! Ciao! Ciao! Posso ordinare? Che cos'è questo? Proviamolo! Oh, che c'è? Posso ordinare della frutta? Ma certo! Che cosa vuoi? Voglio una mela! Ok! Quante mele vuoi? Una, due o tre? Voglio una mela! Una mela! Ecco a te! Grazie! Cosa è di che? Ciao! Oh no! Oh no! Mi è caduta la mela! Oh no! È sporca! Devo tornare indietro! Che cosa è successo? La mia mela è sporca! Fammela vedere bene! Oh, guardate ragazzi! Va bene, non ti preoccupare! Ti aiuterò! Ed ecco una nuova mela per te! Davvero? Certo, sì! Wow! Ho una nuova mela! Grazie! È stato bello aiutarti! Ciao! Wow! Questa mela è proprio sporca! La laverò, mi sa! Adesso la laverò molto bene! Wow! Ora è pulita, sì! Wow! Oh wow! Ehi, ciao! Sta dormendo! Ciao! Posso ordinare tutti i tuoi frutti? Naturalmente! Ti porterò tutta la frutta! Ok! Eccola qui! C'è tutta la frutta che ti serve! Oh wow! C'è tutta la frutta che voglio! E sembra davvero deliziosa! Buona! Ciao ciao! Oggi ho venduto tutta la frutta che ho! Beh, vado a dormire adesso! Ehi ragazzi, vi insegnerò la frutta! Questo è un caco, un'anguria, una banana, dell'uva, una mela, un'ananas, e una fragola, per non dimenticarci dell'arancia! Ti è piaciuta la frutta? Aspetterò un altro cliente adesso!